Siamo pronti con tutti gli ingredienti per fare le nostre polpette di melanzane alla calabrese. Ho frullato, dopo aver ben stretto con le mani, la polpa di una grande melanzana del peso circa di 400 grammi. L'ho frullata per non star lì poi a sminuzzare e la mettiamo in una ciotola. Ecco qua, è ancora ben calda. Adesso andiamo ad unire 150 grammi di ricotta e mezzo bocconcino di mozzarella di bufala, anche la ricotta di bufala. 100 grammi di grana un ciuffetto di prezzemolo e uno spicchio di aglio fresco. Un uovo intero. E qui il è due cucchiaini di ketchup. Mettiamo i nostri guanti perché adesso andiamo a impastare con le mani. Ci aiuteremo, laddove la consistenza non fosse giusta, con del pan grattato. Messo un po' di scottex in una ciotola, sto mandando a temperatura l'olio di cui prima vi raccontavo, olio di girasole. Questo poi alla fine è il nostro impasto finale. Vi dico la verità, l'ho assaggiato, mi sembrava leggermente insipido, per cui ho aggiunto del sale e una roviola. Adesso vado a fare le mie polpette, che hanno preso una bellissima consistenza. Vedete? Le potete fare di qualunque forma, ma a me piacciono tonde piatte perché si cuociono velocemente, rimangono belle croccanti. L'olio a temperatura per cui lo già inserite. Adesso però nel corso di questa frittura vi farò vedere sia queste tonde che quelle fatte proprio alla calabrese che sono fatte proprio così. A Roma si chiamano i supplì. Sono buone anche così. È vero che la forma dà la differenza di sapore, così mi dicono. Non mettiamole troppe, se no l'olio scende di temperatura. Ecco, giusto un'altra. E le mandiamo. Queste polpette le possiamo gustare sia fritte così semplicemente. Oppure, visto che stiamo nominando la ricetta calabrese, andrebbe fatto un sugo semplicissimo di pomodoro e basilico, dove dopo averle fritte le andiamo ad immergere su una teglia con questo pomodoro e basilico e le dovremmo spolverare con del pecorino, infornare a 180 gradi per un quarto d'ora. Ma io stasera le faccio semplicemente fritte. Questa è la base. Poi do spazio alla vostra creatività per ulteriori ricette. Ma questa è la ricetta base. provatele perché sono gustose, semplici, leggere, con ingredienti buoni. Melanzana, abbiamo detto, ricotta di bufala, mozzarella di bufala, parmigiano o grana, per dirsi voglia, prezzemolo, aglio e mandava, perché ce l'avevo in frigo, anche un atto di roviola. O stracchino, se avete. Più formaggi ci mettete dentro. Ovviamente formaggi freschi, formaggi leggeri, non è che possiamo star lì a mettere formaggi troppo complicati. E più saporita sarà la nostra colpetta di melanzane. Come vedete non ho spellato le melanzane, ma avendole frullate, le buccine non daranno noia. Poi non togliamo la buccia alla melanzana, perché a parte che è lì che ci sta la sostanza, ma gli dà un buon sapore. Ho usato olio di arachidi perché il punto di fumo dell'olio di arachidi è più alto degli altri oli di semi, ma se volete potete usare anche l'olio extravergine di oliva. Tra poco vi farò vedere l'impiattamento. Le mie polpette di melanzane sono pronte nella loro bellezza e nel loro profumo. Buon appetito da Ortaggi Tuoi ed Intorni e un bacio da Rita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.